Allora Martin Corradazzi non ho posto, ottimo al primo anno negli allievi e io dico ottimo, tu cosa dici? Sì, abbastanza bene, la pista era un po'... non era al massimo però è stata abbastanza semplice. Ecco, tu sei uno specialista però delle prove veloci, non delle prove veloci, magari domani potrebbe andare meglio, ancora di più, no? Sì, preferisco di più una sette e mezzo in queste gare. Quest'anno hai fatto molto bene anche nel biatro, non hai già deciso cosa farei da grande? Sì, credo di fare il fondo. Aspetti ancora così un annetto per decidere? Sì, un annetto, ancora. Cosa ti piace di più del fondo rispetto al biatro? Che non bisogna fermarsi a sparare perché non sono molto bravo nel tiro.